E si parte per questa avventura, non so che cavolo sto inquadrando, ma come avete visto dal titolo un video di prime volte, è stato un travaglio, un mese tra un travaglio e una odissea cioè Ulisse se l'è passata bene al confronto, visto che dovremmo viaggiare verso Milano e dovevamo farlo in freccia rossa, purtroppo ci sono state le tragedie di Emilia Romagna ovviamente quella volta che ho risposto avvengono le alluvioni a maggio sulla preghiera per le vittime e speriamo che la popolazione si riprenda presto e andremo verso la mia casa calcistica, in uno stadio per la prima volta, non so che emozione proverò proverò a raccontarvelo Perchè sono uno che soffre il mal d'auto, soffre il pullman, stare al secondo piano di un flixbus con questo che frenava, accelerava di colpo e faceva come un matto è stato abbastanza strano ma ci sono arrivato comunque in tiro a Milano ora, chi le suona? mezzanotte 07, un po' ci tira dritto fino a Bologna prima sosta, unica dove siamo? sai di dove siamo, no? o creme? e poi come un peggio assonnati 10 minuti sono 3 minuti sono 3 minuti sono guardi ho guardato la nostra occasione, non faccio una crea niente, è il concerto di Italia l'Italia ce l'abbiamo fatta brividi 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 c'entra San Siro ragazzi assurdo ci entra davvero a San Siro ci entra davvero a San Siro ci sale 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 Sono molto bello, sono molto bello non ci vedo ragazzi non ci credo Impressionante Brividi Non ci vedo Fiori, Fiori Zompario! Fiori, che è? Fiori, sta per te letti! Deconfusione! La terza e tigione! Partita finita, esperienza strana, straordinaria, sembrava tutto un po' vattato, i giocatori come se non senti il rumore del padrone, una telecronica, non so, strano ma bellissimo No San Siro, unico, un pentacolo, bellissimo Abbiamo appena scoperto che negli aeroporti ci sono anche aree per acquistare roba Devi per forza passare attraverso i negozi Navetta Loomwings, Puglia Si trovano due nella parte anteriore della cammina, le finestre di emergenza al centro e due nella parte posteriore Sentiare o no? Sentiare o no? Sentiare o no? Sentiare o no?